a proposito di respiro sempre discreto sempre ancora un po emozionato per i 90 insomma 90 e 90 è morta lì e sono qui che parlo speriamo che il sottoscritto non dica sciocchezze ma allora vi riporto quando io ho incominciato a lavorare ne abbiamo già parlato io ho cominciato a lavorare nel 1950 a roveretto perché vi dico questo vi dico questo perché nel 1950 il problema della vecchiaia era molto ma molto relativo uno di 60 anni l'era vecchio un del 70 non si parla un della meta se non l'era sepolto l'era proprio un caso eccezionale e quello di 90 allora era come quelli di 100 che vedete adesso perché dei centenari ce n'erano non credo di averne mai visti in quell'epoca la di centenari di novantenni sì però rari direte ma cosa c'entra sta roba chi c'entra perché allora allora ero in farmacia e non c'erano come ho detto ancora nei vaccini negli antibiotici negli antidepressivi negli antidolorifici è giù di questo passo avevamo qualche strumento ho detto qualche strumento nel 1952 l'ho già detto ma ve lo ripeto sono arrivati questi nuovi farmaci uno gli antibiotici che hanno nel giro di 1 2 3 anni capovolto la situazione sanitaria del paese chi aveva la broncopolmonite finalmente la doia e una volta e crepava chi aveva la sifilide via chi aveva lo scolo che era una malattia particolare riservata agli uomini è scomparsa la difterite non si parla è giù di questo passo questo che cosa ha provocato è cominciato già allora a variare rapidamente la morte nel 50 la morte era il 45 la media parlo 45 per cento gli uomini 48 le donne questa era la percentuale del 50 oggi me la ditte ditemela voi due la età media 80 80 82 anche 85 ma diciamo 80 me va bene 80 ragazzi ma era il raddoppio di allora allora che cosa si diceva qualche persona illuminata allora di scherzo la mia amica fora che andiamo l'altro ne troverò il problema dei vecchi questo è il mio collega visintainer che lavorava con me che era una persona molto intelligente e quando ha visto che la situazione si capovolgeva che di fronte alla farmacia cobelli dovete sapere a roveretto c'è una piccola piazzetta con una chiesa e lì tutti i giorni tutti i giorni passava un funerale con una bara bianca piccolina perché non era i vaccini per quelli che non vogliono vaccinare i loro figli ascoltino bene ascoltate bene bare bianche perché si moriva di difterite e di tante altre malattie varie che adesso i vaccini hanno completamente eliminato allora qual è il problema problema è che il corato visintainer e dirà ah sono curioso di vedere da chi ha 50 anni ma di corato ostia se che nel 52 cosa pensi da chi ha 50 anni ostia e dirà che non mi sbaglio da chi ha 50 anni saremmo pieni dei vecchi eccolo qua è un problema è un problema allora il problema dei vecchi è un problema problema per varie ragioni allora ai tempi miei diremo com'era composta una famiglia famiglia era composta dal marito che lavorava e la moglie che la feva la casalinga perché con lo stipendio del marito era sufficiente mantenere la famiglia per quello che vi ho già detto in televisione che bastava la cosina economica che le lampadine le era da 25 il gabinetto le era forte casa la macchina se la ghera genera una e le piccole cilindrata che pom 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 per mettere la mossa la mattina era sempre il problema quindi c'era una proporzione tra lo stipendio e la vita della famiglia molto forte cioè lo stipendio era sufficiente per mantenere la famiglia oggi cosa è successo è successo che la tecnologia il benessere eccetera 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 non basta più lo stipendio di una persona ci vuole lo stipendio anche di un'altra persona ora la donna che era solamente casalinga il suo lavoro era quello della casalinga d'improvviso si è trasformato in operaia in impiegata eccetera e anche in casalinga e anche gli uomini hanno dovuto darsene a registrarla a lavar piatti stirare e fannare la lavatrice cose che non appartengono alla mia generazione ma che sono diventate cose di necessità allora torniamo indietro la signora era la casalinga lui e laurea se maleva la mamma del lui o della ed era via cosa facevano secondo voi la sapevi la metteva il ricovero del colpo perché da altri ricoveri voi non ve lo potete ricordare ma bisognerebbe andare in stranforio io se la fotografia del ricovero di stranforio potessi trasmettervela qui vi assicuro che vi viene un colpo a tutti quanti perché il ricovero di stranforio era composto di questa maniera un grande salone grande tutto letti in tondo uno vicino l'altro letto comodino letto comodino in centro in centro letti a testa a testa chiaro allora tutti intorno e poi al centro gara doletti 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 comodino doletti doletti di modo che era delle persone da questa parte che vedevano quelli dall'altra uno stanzone enorme poi c'erano delle singole stanze così ma questo era l'ambiente di allora oggi per fortuna di dio le cose sono cambiate ma prima di mandare uno al ricovero lo tenevano in casa perché perché la moglie che faceva la casalinga era anche in grado di dare una mamma al zio al nonno al genitore che lei era in casa e quindi poteva dire oggi non è più possibile non è più possibile allora allora qual è il problema case di riposo ma il problema va ancora più in là e quella proposta che ho visto ieri la case del sole è una proposta per conto mio veramente interessante ma non è solo per noi è anche in proiezione perché anche le nostre famiglie il galas che vedo di fronte poi non è per farlo il muto quadro scusate ma preparere in un domani in un domani o se muore perché il cancro perché ragazzi dobbiamo fare un altro ragionamento perché si muore oggi qual è la malattia che secondo voi incide ancora sull'età degli anziani il tumore se salta fuori a uno come è successo nel 1952 con gli antibiotici che trova che il tumore il tumore è finito dove li mettiamo dove li mettiamo dobbiamo creare una situazione per cui le persone di una certa età devono avere una proiezione di vita allora marchionne è un grande industriale noi dobbiamo avere dei politici dei politici che prevedono ora questa mozione delle case del sole la trovo molto avveniaristica e trovo una cosa molto avveniaristica perché perché il problema non è solo italiano allora quel che si è male qua tutto sommato che la temperatura discreta ma uno che si è male a norimberga un che si è male ad l'amburgo è dove canfredo bojan clima infelizio e dove tutto sommato si respira male per quel che mi respiro meglio perché sono marco quindi la mia respirazione buona hanno dei problemi allora se noi che abbiamo questo petrolio in casa che è dato dal clima che è dato da un'aria salove che è data da un lago che non va mai al di sotto dei 7 8 gradi quindi che è un termosifone e ci fa tenere un clima mediterraneo molte persone del nord se qui si creano delle strutture particolari potrebbero pensare che antiché passare la loro vita al nord potrebbero passarla al sud allora arco è piena di vecchi edifici lo sapete tutti mi tutte le volte che parlo l'altro giorno mi ha domandato ma secondo ti disse il sindaco d'arco cosa ha fatto mi spiace betta vada mi spiace niente se betta dovesse andare via domani credo che potrei scrivere non dico la frase non è fatto niente traducetelo in un termine dei giovani non la ciputini non ha fatto niente perché io non ho visto adesso e allora se andiamo analizzare il clero fora l'eremingo è il vecchio ospedale quel come a villa villa alzheimer come si chiamava il quella aiutami è villa garda l'era villa garda quella davanti che l'era il vecchio ospedale che io avrei restaurato ma che i geni della provincia pur di sovvenzionare dite che che fia comodo salori il messo a posto non solo il qui si sana villa elena l'oratorio prabi po cosa che ancora che ci sono un'infinità di costruzioni perché non le restauriamo è l'idea di fare questa proposta per portare nel nostro posto delle persone che desiderino trascorrere la loro vecchiaia in una meta mi pare un'idea vincente qui ad arco c'è stata il regina villa regina se andate a vedere villa regina io sono andato a vedere ha fatto tutta una serie di una struttura di stanze attrezzate perfette dove uno può andare e essere autonomo però se il domani vuol farsi portare in mangiare portano a mangiare domani che aveva l'influenza che ha l'infermiera che lo assiste e che ha la broncopolite che ha il medico che lo assiste il volnare in piscina che è la piscina allora ci sono però mi si risponde questi chi mi sta facendo così così è vero ma di gente ambiente che è su sta terra non è mica tutti i quattro semplitoni no eh non è mica tutti i gente che va a giro a chiedere la carità come il tamanini che va in piazza fate la carità al povero farmacista non va che ha la possibilità di avere una proiezione di vita discreta in una in una in una struttura a posto allora anche in germania anche in finlandia anche in altri posti ci sono strutture di questo tipo però non hanno il clima e quindi noi possiamo offrire a queste persone anziane oltre oltre al soggiorno anche il clima che è conforme perché vorrei avere la minu di amburgo sia a gennaio la fardo pace a merdì con del bel sole e del bel clima come te fai chiarco eh ragazzi e sta a casa se la dentro con la stufa a pizzare se la stufa col termossifone e non mette fuori il naso dalla porta allora questa soluzione credo che sarebbe una soluzione avvenieristica diamo atto in questa l'amministrazione l'importante è che queste cose le facciano aiutatemi le facciano perché a ciacere questi anni diceva che donne non se sgionfa buongiorno